Ci sono due partite in corso, una è quella economica, l'altra è quella demografica. Quella economica, secondo me, adesso al di là dell'impressione che posso aver dato, è che non è persa, è da giocare, ce la possiamo giocare, possiamo avere dei problemi, possiamo anche vincerla. Ci sono dei segnali di debolezza, la stagnazione, il pil che appunto non cresce, però ci sono anche dei segnali positivi, l'export, bene o male, tira avanti. Speriamo che il deterioramento della situazione internazionale, Germania in primo luogo, non crei dei problemi, però insomma, è un ambito nel quale qualche cosa può avvenire a casa. Quello che invece mi sembra molto più problematico è la parte demografica. Cioè noi abbiamo una popolazione che ormai sono quattro anni che ogni anno diminuisce di numero, sono sei anni che ogni anno fa il record del più basso numero di nati di sempre. Abbiamo una differenza tra nati e morti di 200.000 unità. Abbiamo una popolazione che invecchia progressivamente e quindi una componente anziana, molto anziana e spesso anche molto vecchia, alla quale bisognerà garantire una vita dignitosa. Quindi vuol dire non solo dargli una pensione, ma anche dargli un'assistenza sanitaria che sia adeguata. La Presidente del Senato, proprio domenica all'apertura inaugurale, diceva investiamo nella famiglia, perché aiutando la famiglia si può aiutare una crescita demografica. Può essere questa una via? Assolutamente. Noi stiamo discutendo di una malattia, chiamiamola pure così, rispetto alla quale la diagnosi è chiara. Ormai si sa perché la gente non fa i figli. E se vogliamo anche la terapia è chiara. Si sa quali sono le medicine che dovremmo andare a comprare. Queste medicine sono un aiuto economico a chi fa figli, sono una compatibilità tra maternità e lavoro, cioè la donna deve essere in grado di continuare a fare il lavoro per il quale ha studiato spesso e anche magari senza problemi legati alla carriera, cioè deve poter fare la mamma e la lavoratrice. C'è un discorso di cura, gli asili, gli asili che costano, che sono inadeguati, insufficienti, soprattutto nel mezzogiorno, e che costano. Un modello a cui riferirsi? Allora, se andiamo all'estero abbiamo il classico modello francese dove c'è il quoziente familiare, quindi un aiuto di natura fiscale, un aiuto di natura economica molto evidente, ma non solo. E quindi non è un caso che la Francia, con circa lo stesso numero di abitanti che abbiamo noi, fa 300 mila nati in più, che non è pochissimo. Metterebbe a posto il sistema di ricambio generazionale nel nostro paese. Tutte queste cose possono essere valorizzate e bisognerebbe trovare il modo di tenere conto di utilizzare tutte queste esperienze che danno dei risultati positivi.